Musica Benvenuti su ETV all'appuntamento con Buonasera Marche. In questa puntata parliamo del Musicultura Festival, 27esima edizione, 23, 24, 25 giugno, le grandi serate finali di scena allo Sferisterio di Macerata, ma tanti altri appuntamenti all'interno della Controra che inizieranno dalla prossima settimana. Ospite con noi studio è il direttore artistico Piero Cesanelli. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto, quindi dicevamo ormai da diverse edizioni, da diversi anni, la Controra è un festival nel festival, una grande attenzione, tanti nomi importanti, un calendario davvero fritto. Spieghiamo qual è lo spirito della Controra all'interno dell'idea del Musicultura Festival. Lo spirito è quello che assiste un po' tutta la programmazione di Musicultura, nel senso che i piccoli sipari che avvengono sul palcoscenico dello Sferisterio, dico piccoli per esigenze tecniche, radiotelevisive, vengono dilatati nella Controra, per cui nella Controra possiamo approfondire la conoscenza con questi artisti che sono ospiti e che ci presentano il loro mondo, sia umano che artistico. In questi ultimi anni abbiamo avuto delle esperienze, degli incontri che hanno veramente creato, come diceva lei prima, lo spettacolo nello spettacolo, nel senso che hanno incuriosito talmente il pubblico che questo appuntamento pomeridiano, che in realtà dal titolo la Controra dovrebbe essere un po' sonnolente, invece molto scoppiettante e invita tutti i presenti a partecipare a queste performance di artisti che altrimenti non vedremo. Quindi c'è un po' di tutto, ricordiamo dai concerti, recital, leading, incontri con ospiti, mostre, happening, iniziamo a dare anche alcuni nomi, ricordiamo che si parte lunedì 20 giugno, quindi le ore dalle 18 circa in poi per arrivare poi agli altri appuntamenti, ricordiamo un po', commentiamo insieme alcuni nomi che saranno a Macerata in preparazione appunto del Festival Musicultura all'interno della Controra. Sì, ho qui il programma perché non posso non averlo perché sono talmente numerosi gli appuntamenti e infatti... Rischiamo di dimenticarne qualcuno, poi magari li trovate tutti sul sito di Musicultura... E sul De Pliant che stiamo appunto distribuendo in tutta la provincia. Sì, anche Macerata, tappezzata da manifesti, insomma, con foto e tutto. Lunedì 20 apriamo questo appuntamento appunto chiamato La Controra con uno spaccato di Roberto Manfredi che è uno scrittore che ha scritto sempre sulla canzone umoristica, quella che è un po' maltrattata, che è un po' messa da parte sul tipo di canzone, di composizioni che sono state scritte all'insegna della comicità e dell'umorismo. E' una cosa molto divertente e che si è vista molto poco, per cui è un appuntamento da non mancare. Come lo è da non mancare l'appuntamento con Roberto Gervaso che conosciamo tutti e che presenta appunto un suo libro sarà guidato e provocato anche a volte da Ennio Cavalli che è il nostro responsabile artistico da un punto di vista letterario, insomma, e questo appunto al Palazzo Conventati. E invece al Palazzo Ceccolino un piacevole ritorno, quello dei Lettera 22 che sono stati più di una volta nella rosa dei finalisti vincitori di musicoltura e che ripropongono appunto questo nuovo album insieme a Umberto Maria Giardini e anche qui sarà un appuntamento che ci fa ritrovare un po' gli artisti su cui abbiamo creduto e che abbiamo coltivato nel corso di questi anni. La sera poi, veramente, è un'apertura ufficiale dopo due anni dedicati alla Progressive Music che coi agorà due anni fa e coi area l'anno scorso, quest'anno proponiamo il blues e non potevamo non chiamare il Travis Blue Band che è l'unico in questo momento rappresentante autorevole del blues. Tra l'altro è molto vicino anche al nostro territorio, alla nostra terra, non tanto lui perché mi sembra che sia Veneto, però ricorda molto, lo rammento sempre, come il blues è giunto nel nostro paese, in Italia. Dopo la liberazione della schiavitù molti soggetti di colore preferirono ritirarsi a fare gli agricoltori e quindi lasciarono i campi di cotone non coltivati. La mano d'opera venne presa per un periodo all'inizio del Novecento proprio anche nella nostra Italia e soprattutto nella zona di Morrovalle e Montegranaro. Questi nostri contadini scesero in America, si misero a lavorare nei campi e si appropriarono anche degli usi e delle tradizioni di conseguenza, quindi anche della musica e il blues arriva in Italia in questi termini. Quindi questa riscoperta che in qualche modo di paternità di questa musica meravigliosa che Trevese tra l'altro conosce, ci porterà in quel tipo di atmosfere e lui verrà con una band dove ci sono musicisti di grande valore anche internazionale. Poi ripeto, salto un po' di qua e un po' di là perché è veramente impossibile. Ricordiamo che il concerto, l'appuntamento con i finalisti in Piazza Cesare Battisti ci sarà martedì 21 giugno, giusto? Sì, martedì 21 giugno. Quindi volevo con te approfittare all'interno del calendario di questo appuntamento per dire qualcosa sui finalisti che spaccato abbiamo nelle serate finali allo Sferisterio quest'anno, l'andamento come è stato nella scelta della giuria, anche dal web alla radio, come è stata? Negli ultimi due anni, quest'anno in particolare, sono cambiati. Gli artisti, anche quelli di grande valore, hanno capito che se non c'è la canzone che funziona è perfettamente inutile dimostrare la loro bravura. E quindi quest'anno finalmente abbiamo delle canzoni molto fruibili e molto anche orecchiabili, molto cantabili, che vengono ascoltate continuamente. Radio AI1 le diffonde frequentemente, Gio Vignola che ci diffonde e ci intrattiene in questo tipo di operazione, è entusiasta. I generi rappresentati tra l'altro è molto importante questo perché abbiamo un po' tutti i generi presenti e quindi penso che venga accontentato un pubblico vastissimo. Sì, vediamo in questo momento alcuni momenti delle serate, delle presentazioni. Questa è la conferenza stampi RAI a Roma. Sì, a Roma, dove eravamo anche presenti, pure noi con le nostre telecamere, insomma abbiamo visto da Frizzi a Vignola, insomma anche gli speaker volti che accompagneranno il festival. Sì, e quindi anche questo sarà uno spettacolo, uno spettacolo nel senso che i finalisti quest'anno con delle canzoni talmente fruibili incendieranno veramente il favore del pubblico e sarà molto bello vedere da questa kermesse poi il pubblico che sceglierà, insomma. Mi dimenticavo, andando a ritroso, un po' che alle 18.30 di quello stesso giorno c'è un ricordo, diciamo, di Gian Maria Testa, vincitore per due volte che è venuto a mancare circa due mesi fa, vincitore per due volte di musicoltura, che verrà ricordato da un attore che sta andando fortissimo in questo momento, Giuseppe Battiston, e quindi leggerà dei testi di Gian Maria, appunto. Sarà presente la moglie e il giovignolo condurrà questo intrattenimento e l'appuntamento prende il titolo dal titolo di un suo disco, insomma, da questa parte del mare. Poi andando avanti, il mercoledì ci troviamo con Michele Mondella, famosissimo art director di De Gregori, di Lucio Dalla e forse anche di Venditti per un periodo, che ci parlerà di questo ricordo di Lucio Dalla e di questi tre cd rimasterizzati e del DVD ormai introvabile del famoso concerto De Gregori, Dalla, Ron, Banana Republic. Un piacevole ritorno quello della compagnia che ci proporrà uno spettacolo in lingua napoletana nel Palazzo Conventati. E poi c'è la partita di calcio di mercoledì e dopo la partita c'è questo appuntamento con un altro... Quindi come seguirete la partita? La partita la seguiamo in piazza Sassare Battisti, ci hanno messo a disposizione molto gentilmente i due bar che si affacciano sul Maxi Schermo, appunto, in collaborazione con Di Gusto Italia e con il bar Ristorante Ron Caffè. E dopo questa partita Jacopo Rattini, un altro ex vincitore di musicoltura, proporrà una PS su Bukowski di Parole Musica, quel famoso teatro-canzone che io amo tanto e che adesso comincia a ritornare prepotentemente. Siamo arrivati al... Sì, al giovedì, venerdì e sabato, quindi che saranno poi anche le serate del festival, quindi che cosa propone la Controra? La Controra propone un po' gli ospiti, qui abbiamo... Ricordiamo sì i nomi anche di alcuni ospiti e poi oltre alla Controra saranno protagonisti sul palco del nostro misterio. Esatto, Eugenio Finardi presenterà un suo... un suo resoconto degli 40 anni di carriera. James Senese ha recuperato il gruppo Napoli Centrale, questo è un fatto... forse il fatto che io amo di più, nel senso che è un gruppo che ha segnato la storia di un certo genere che per musicoltura appunto sarà presente sul palco dell'Osteristerio e questo progetto verrà presentato anche in piazza Cesare Battisti. Dacia Maraini purtroppo è oggetto di una forte labirintide per cui è molto difficile che venga, ma avremo qui il sabato nel cortile Palazzo Municipale Patrizia Valdua, che è una delle più autorevoli rappresentanti della poesia italiana, che è stata ospite già da noi e ritornerà. Nico, Nino Frassica che cosa proporrà? Sia sul palco e poi alla Controra? Quando Nino Frassica ci manda a dire che proporrà la sua autobiografia, detto da Nino Frassica è possibile di tutto, non sappiamo che cosa ma è talmente intelligente la sua satire, la sua comicità e non ultima anche l'esperienza musicale che ha avuto perché ha presentato una canzone che è stata forse la più bella canzone del Festival di Sanremo, quella che lui ha presentato sul problema dell'immigrazione. A proposito anche di Sanremo, tra gli ospiti anche ci sarà sia tra i giovani una protagonista di musicultura, sia Francesco Corbani il vincitore ma anche la seconda classificata, Chiara dello Iacobo. Anche premio della critica tra l'altro. Sì, premio della critica. Quindi insomma anche Chiara dello Iacobo in questo momento come tanti altri nomi in passato testimonia un po' anche il lavoro che musicultura fa alla ricerca dei giovani talenti. Che tra l'altro appunto sono persone che partecipano a una manifestazione mediaticamente molto più grande come il Festival di Sanremo, ma non è che mi partecipano da comparsi, riescono addirittura o a vincerlo o a prendere i premi della critica, per cui si impongono veramente e quindi viene imposto anche un certo tipo di serità, di professionalità che musicultura opera nello scegliere gli artisti. C'è anche il ritorno di Simone Cristicchi. Sì, e poi abbiamo anche un altro vincitore, Diego Carè, una proposta molto interessante che ci proporrà un cd tutto svolto, i pezzi non sono tutti completamente in dialetto, ma molto in dialetto marchigiano perché è tutto di musica popolare ispirata al nostro territorio. Gli altri nomi, anche Tiro Mancino, nella serata di sabato, non abbiamo detto giovedì 23, Gianna Nannini tra gli ospiti. Sì, Gianna Nannini non ha bisogno di presentazione, anche se qua come sempre… E cosa avete chiesto a Gianna Nannini sul palco? Abbiamo chiesto dei brani che abbiamo sottoposto a lei e che lei ha molto entusiasticamente accettato di fare, quindi saranno numerosi i brani. Non svegliamo troppo, magari in suoi… Non ne verrà qua per fare due o tre brani, ma ne verrà qua per farne 7-8, quindi i brani e tra l'altro abbiamo pensato di affiancarla a un'orchestra d'archi di 14 elementi, diretta da Cinzia Pellisi appunto, più il suo gruppo, quindi vedremo un concerto come sempre che non si vede da altre parti. Un altro aspetto di musicultura… E lo stesso sarà per Edoardo Vennato, la stessa identica cosa che si è preparato un set completamente diverso da quello che fa normalmente nei concerti. Ail che musicultura, che cosa possiamo aggiungere insomma con anche questa iniziativa dalla t-shirt alla shopper, insomma questa anche intenzione ulteriore di solidarietà e di sostegno alla ricerca con musicultura? Ma qui c'è poco da dire, ogni anno noi sposiamo perché non possiamo fare diversamente, nel senso che non possiamo farlo con più di un soggetto. Abbiamo avuto, partendo dall'Anfas tanti anni fa, abbiamo sposato a Emersi, abbiamo sposato moltissimi soggetti a sfondo umanitario e live, si è sembrato in questo anno in cui ci rassicurano dicendo che veramente stiamo molto vicini a una soluzione per quanto riguarda l'aspetto del malato di tumore voglio dire. Sostenere la causa insieme a questa associazione che ha dedicato tutto il loro programma e tutto il suo progetto a questa battaglia ci è sembrato doveroso e ci è piaciuto anche molto, infatti con la Presidentessa signora Volpini abbiamo pensato di fare due operazioni, sia la t-shirt, va bene, che verrà venduta una maglietta per sostenere questo tipo di operazione e Musicultura proprio in prima persona ha pensato di devolvere il 50% dell'incasso dei cd dei finalisti a questa causa. Un'altra curiosità abbiamo detto controlla ben sei le postazioni nel centro storico di Macerata che vedranno tanti momenti da concerti, resita all'incontri, le ricordo brevemente, piazza Cesare Battisti, il cortile del palazzo municipale, il cortile di palazzo conventati, gli antichi forni, il palazzo Ciccolini, sempre il cortile della loggia del grano, ma all'interno ci saranno anche, all'interno della Controra, gli studenti del corso di illustrazione dell'Accademia di Belle Arti che faranno questa iniziativa, ritraggono anche scorci inconsueti della città proprio durante la Controra, questo è un movimento in cui l'arte si unisce alla musica e agli appuntamenti. Ci è sembrato proprio anche questo ottimo, cioè aprire questo punto di contatto con l'Accademia di Belle Arti che è forse l'istituto più vicino a questo genere di spettacolo e di iniziative che musicoltura fa. Quindi oltre alle due università che stanno lavorando ormai da mesi, dal tempo delle audizioni, con le giurie, con il Chouchard, con la redazione di Chouchard, tra l'altro questi ragazzi, lo sottolineo sempre, non vivono passivamente questa cosa, non sono dei soldatini che stanno lì ad assistere a un evento perché uno potrebbe avere il piacere soltanto di rimanere lì e di assistere a cose che normalmente non vede. No, sono attivissimi e reggono anche una parte a livello organizzativo che altrimenti musicoltura dovrebbe preoccuparsi di allestire. Un'altra curiosità, toccando il cielo con un drink. Sì, è una specie di aperitivo che abbiamo pensato, di nuovo noi avevamo fatto un esperimento di questo tipo due o tre anni fa, addirittura coinvolgendo i finalisti, i vincitori, io li chiamo finalisti, in realtà sono gli otto i vincitori. Sì, aperitivo al tramonto aspettando le stelle dal loggione dello sferisterio, toccando il cielo con un drink. Sì, questo è stato fatto anche negli ultimi due anni, nel senso che per appropriarsi prima del luogo dove avverrà poi l'evento è possibile prendere, usufruire di un aperitivo sul loggione dello sferisterio e di conseguenza viverlo nell'arena meravigliosa che tutti conosciamo. Insomma, abbiamo incuriosito, fatto magari anche crescere la voglia di essere presenti allo sferisterio, però i biglietti sono terminati? I biglietti sono un po' l'aspetto negativo nel senso di tutti gli anni che un mese prima sono esauriti, era rimasto qualcosa negli ultimi 20 giorni per quanto riguarda il venerdì perché ancora doveva uscire il nome dell'altro ospite, Edoardo Bernato, eccetera. Adesso non ci sono più. Ricordiamo che magari ci sarà anche nel vostro sito una diretta streaming con alcuni eventi se qualcuno volessi seguire. Ci sono qualche biglietto di qualcuno che potrebbe non venire e poi la sera stessa verranno venduti i biglietti per il loggione. Però per la Controra invece è possibile, è libero, quindi tanti appuntamenti nella Controra dirà degli eventi dello sferisterio. Quindi ormai è quasi tutto pronto, conferenze nei prossimi giorni. Abbiamo la conferenza stampa Marte Vivi, ufficiale di presentazione alla Regione Marche in cui ufficializzeremo tutto il programma praticamente, quindi quello delle tre serate, quello che ho anticipato qui da voi. E Fabrizio Frizzi che ormai è un grande amico del Festival, ogni anno partecipa, rinnova questa amicizia, con quale entusiasmo? È un entusiasmo incredibile, nel senso che veramente ormai è nato, non può essere spezzata questo tipo di rapporto perché addirittura si preoccupa reciprocamente se non ci sentiamo al telefono a una certa data, quindi è entusiasta, contento e come sempre sarà con noi, come lo è diventato nel corso, anche se l'esperienza è stata molto breve, è Gio Vignola di Radio Rai 1 e di tutto lo staff di Rai 1 che ci sta seguendo veramente in modo incredibile dall'ufficio stampa, da tutti. Poi ricordiamoci sempre perché noi un po', questo è il carattere un po' del marchigiano, tendiamo a sottovalutare un certo tipo di cose che non è facile assolutamente avere una manifestazione che ha come partner mediatico Radio Rai 1, non ci sono praticamente, dobbiamo andare a Sanremo per trovarle. Grazie, quindi ecco anche con questa immagine, questo qui il Depli anche in gira anche per la città, con tutti gli ospiti, io saluto e ringrazio Piero Cesanelli per essere stato con noi, quindi buon lavoro, arriva il momento clou insomma di tanti impegni, tanti mesi per chiudere questa 27esima edizione. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito da casa e buon proseguimento con i programmi di Thibaut. Grazie a voi. Grazie a voi.